Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 8 di stamattina tra un tir ed un treno della linea Brescia-Iseo-Edolo delle Ferrovie del Nord. In corrispondenza di un passaggio a livello a Corte Franca in provincia di Brescia, il treno si è schiantato contro un camion carico di terra. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, il tir sarebbe rimasto bloccato tra i binari, mentre il treno sopraggiungeva da una curva. La Capotreno ha infatti provato ad azionare i freni di emergenza, ma non è stato possibile evitare l'impatto. Sul posto sono subito giunti gli uomini della Polizia Stradale e della Polfer, nonché diverse ambulanze inviate dal 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Palazzolo e di Brescia. Almeno 13 persone sono rimaste ferite, due delle quali la conducente del treno e l'autista del camion, in gravi condizioni, anche se stando alle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi tuttavia sono stati trasportati all'ospedale civile di Brescia e con l'eliambulanza. I passeggeri, rimasti feriti, sono stati ricoverati al civile e dalla poliambulanza di Brescia, alla clinica San Rocco di Ome, a Diseo e a Chiari. La circolazione sulla tratta ferroviaria al momento è ferma e non si sa quando riaprirà. Si tratta del secondo incidente nelle ultime 48 ore che vede coinvolto un mezzo di trasporto pesante nel Bresciano. Ieri, infatti, sulla statale 45 Bis, nei pressi di Mazzano, un'auto guidata dal 68enne Guido Goffi ha invaso la carreggiata opposta, schiantandosi contro un camion. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e si tratta purtroppo della 41esima vittima dall'inizio dell'anno sulle strade del Bresciano. Si chiude qui anche questo appuntamento con il WebTG di Unica Channel. Appuntamento alla prossima notizia.